Sulle prime aveva pensato di andare a comprarsi una fetta di prosciutto o di carne fredda alla solumeria pascal dal lato opposto del mercato all'inizio di ruducanal o magari di non mangiare affatto oppure di accontentarsi dei due croissants in più che gli avevano dato la mattina non avrebbe dovuto prenderli era in contraddizione con la pretesa partenza di Gina per Bourges di regola avrebbe dovuto comprarne solo tre non era per sé che si angustiava tanto e nemmeno perché si preoccupava del decoro di quel che poteva dire la gente era per lei anche se gli aveva portato via i francobolli che a parte Gina erano ciò a cui teneva di più al mondo si sentiva comunque in dovere di proteggerla non sapeva ancora da che cosa era in preda soprattutto dal mattino a una vaga inquietudine che gli impediva di soffermarsi troppo sulla sua pena col tempo forse avrebbe saputo leggere con più chiarezza nei suoi sentimenti e fare il punto della situazione per il momento stordito badava solo ai problemi più urgenti con la convinzione che agendo in quella maniera proteggeva la moglie le rare volte in cui Gina era andata a trovare la lutte trascorrendo l'intera giornata a Bourges lui aveva ripreso le sue abitudini di scapolo e aveva mangiato da pepito quel giorno dunque doveva comportarsi allo stesso modo così quando la campana di mezzogiorno che annunciava la fine del mercato suonò a distesa nel sole facendo vibrare l'aria di rintocchi simili a quelli di un convento Jonas cominciò a rimettere dentro le cassette dei libri il camion della nettezza urbana stava già costeggiando la piazza a passo duomo mentre cinque spazzini vi ammassavano i rifiuti che raccoglievano coi badili dal canale di scolo molte frutti vendole specie quelle che venivano dalla campagna se ne erano andate e qualcuna prima di prendere l'autobus entrava dalle buco al bar trianon per consumare lo spuntino che si era portata appresso a Jonas dispiaceva allontanarsi da casa quasi commettesse un tradimento e contro ogni evidenza diceva a se stesso che Gina poteva tornare durante la sua assenza ruota era stretta in leggera pendenza nonostante il suo nome e costituiva la parte più popolata del quartiere rispetto ad altre vie lì c'era una maggiore varietà di botteghe vendevano eccedenze delle forniture americane orologi di poco prezzo e c'erano almeno tre negozi di anticalie e di vestiti usati da quando a un chilometro di distanza avevano costruito la fabbrica di prodotti chimici il tratto più basso della strada era diventato una sorta di quartiere italiano tanto che veniva chiamato anche la piccola italia a mano a mano che lo stabilimento cresceva di importanza giungevano operai da fuori per primi erano arrivati i polacchi che si erano sistemati un po' più in alto poi quasi davanti ai cancelli della fabbrica alcune famiglie di nordafricani il ristorante di pepito con le pareti color verde oliva e le tovaglie di carta non aveva però perso la sua atmosfera accogliente e a mezzogiorno era frequentato da clienti abituali che come aveva fatto a lungo Jonas vi consumavano i pasti tutto l'anno maria la moglie di pepito cucinava mentre il marito si occupava del bar e la nipote serviva ai tavoli oh il signor Jonas esclamò l'italiano scorgendolo che bella sorpresa rivederla poi temendo che la sua contentezza fosse fuori luogo aggiunse subito Gina starà bene spero e così a lui toccò ripetere il ritornello è andata a Bourges ah fa bene di tanto in tanto cambiare aria il suo tavolo di una volta è libero vede Giulia apparecchia per il signor Jonas probabilmente solo in quel momento Jonas si rese davvero conto del vuoto che si era prodotto nella sua vita per anni e anni il ristorante di pepito dove nulla era cambiato era stato per lui una seconda casa e ora ecco che invece vi si sentiva estraneo e fu colto dal panico al pensiero che forse avrebbe dovuto tornarci ogni giorno il vedovo era al suo posto e sembrava quasi esitare a rivolgere a Jonas quel lieve battito di palpevere che un tempo serviva loro da saluto non si erano mai scambiati una parola per anni erano arrivati quasi alla stessa ora e avevano occupato due tavoli l'uno di fronte all'altro accanto alla vetrata Jonas conosceva il suo nome grazie a pepito era il signor metras cap ufficio al municipio ma per lui restava sempre il vedovo non aveva mai visto la signora metras morta da 15 anni poiché non avevano avuto figli il marito abbandonato a se stesso aveva preso l'abitudine di mangiare da pepito doveva avere 55 anni forse qualcuno in più era alto aveva le spalle larghe una corporatura massiccia e muscolosa capelli color ferro sopracciglia cespugliose e peli più scuri che gli uscivano dalle narici e dalle orecchie anche il colorito era grigiastro e Jonas non aveva mai visto sorridere l'uomo non leggeva il giornale mentre mangiava come fa la maggior parte delle persone sole non attaccava discorso con nessuno e masticava con calma guardando dritto davanti a sé erano trascorsi i mesi prima che cominciassero a scambiarsi quel saluto con gli occhi e Jonas era l'unico al quale il vedovo avesse fatto tale concessione sotto il suo tavolo stava accucciato un cane di taglia minuscola asmatico grasso e pressoché paralizzato doveva avere quasi vent'anni perché era appartenuto alla signora metras uscendo dall'ufficio il vedovo andava a prenderlo a casa e lo portava con sé al ristorante dove gli preparavano la sua zuppa poi prima di rientrare al municipio lo riportava a casa lentamente aspettando che la bestia facesse i suoi bisogni e la sera il rito si ripeteva come mai quel giorno mentre Jonas mangiava il vedovo lo guardò con più attenzione che in passato non era possibile che già sapesse eppure sembrava proprio che trattenesse un sogginio pensando così eccola di nuovo qua quasi fossero stati tutti e due membri di una stessa confraternita e come se Jonas dopo averla disertata per un certo tempo fosse infine tornato all'ovile pentito stava facendo correre l'immaginazione ma non c'era nulla di immaginario invece nell'orrore che provava l'idea di sedersi di nuovo ogni giorno di fronte al capufficio che cosa prende come dessert signor Jonas ci sono religieuse e torta di mele aveva sempre avuto un debole per i dolci in particolare per la torta di mele che scelse rimproverandosi di cedere alla gola in un momento simile che ci racconta di nuovo signor Jonas pepito era alto secco e nodoso come palestri ma al contrario del suo compatriota si mostrava sempre affabile sorridente gestiva il ristorante con tale buon umore da dar l'impressione di considerarlo un gioco maria la moglie a forza di passare la vita in una cucina di sei metri quadrati era diventata enorme il che non le impediva di restare giovane e piacente anche lei era allegra e scoppiava a ridere per un non nulla essendo senza figli avevano adottato un nipote che avevano fatto venire dall'italia e la sera il ragazzo studiava seduto a un tavolo del ristorante come sta gina bene l'altro giorno mia moglie l'ha incontrata al mercato e non so perché ha avuto l'impressione che aspettasse un bambino è così Jonas disse di no quasi vergognandosi perché era convinto che fosse colpa sua se la moglie non era incinta maria era stata ingannata dal fatto che negli ultimi tempi gina aveva preso a mangiare più del solito con una specie di frenesie e da formosa era diventata grassa al punto di dover farsi allargare i vestiti poiché nei primi tempi del loro matrimonio gina non toccava quasi cibo Jonas si era rallegrato di quell'insolito appetito la incoraggiava ritenendolo un segno di serenità immaginando che si stesse abituando alla loro vita in comune e che forse prima o poi sarebbe arrivata a sentirsi felice glielo aveva anche detto e lei aveva bozzato un sorriso vago accompagnato da uno di quegli sguardi protettivi che le capitava sempre più spesso di rivolgergli gina non aveva il carattere autoritario della madre tutt'altro non si curava degli affari né dei conti e tanto meno dell'andamento domestico eppure nonostante la loro differenza di età era lei a volte ad assumere un atteggiamento indulgente nei confronti di Jonas il marito era lui e gina lo trattava come tale ma forse ai suoi occhi non era del tutto un uomo un vero maschio e sembrava considerarlo un bambino ritardato aveva sbagliato a non mostrarsi più severo con lei forse gina avrebbe avuto bisogno d'essere tenuta in pugno ma questo avrebbe cambiato qualcosa non aveva voglia di pensarci il vedovo di fronte a lui lo ipnotizzava e per sfuggire a quello sguardo Jonas finì la sua torta di mele più in fretta di quanto avrebbe voluto di già si stupì pepito quando gli chiese il conto non prende il solito caffè l'avrebbe preso dalle buc con la segreta speranza di avere qualche notizia un tempo mangiava lentamente come il signor metras come la maggior parte degli uomini soli che pranzano al ristorante che in genere scambiano poi quattro chiacchiere con il padrone giulia il conto del signor Jonas e rivolgendosi a lui ci rivediamo stasera forse gina sarà via per molto non lo so ancora di nuovo la stessa solfa era imbarazzato non sapeva più come rispondere a tutte quelle domande e si rendeva conto che l'indomani sarebbe stato peggio e peggio ancora nei giorni successivi che cosa sarebbe accaduto per esempio se la lutte avesse fatto visita ai genitori rivelando che gina non era andata a burge era improbabile ma lui doveva prepararsi a ogni evenienza quella che per tutti era la lutte si chiamava in realtà luisa riel e i suoi genitori vendevano granagli al mercato proprio di fronte al negozio di Jonas dall'altra parte della grande tettoia Jonas l'aveva vista come aveva visto gina correre tra le bancarelle quando non aveva ancora dieci anni a quel tempo col suo visino tondo gli occhi azzurri dalle lunghe ciglia e i capellini anellati sembrava una bambola il che era abbastanza strano perché il padre era un ometto magro e scialbo e la madre nel retroambiente del negozio di granagli esposto a nord dove il sole non penetrava mai dava l'impressione di una vecchia zitella rinsecchita i due ariel marito e moglie indossavano lo stesso grembiule grigio e a forza di vivere insieme ciascuno dietro al proprio bancone e di compiere gesti identici avevano finito per rassomigliarsi la lutte era stata l'unica ragazza della piazza a venire educata in convento da dove era uscita soltanto a 17 anni era anche quella meglio vestita con abiti da vera signorina la domenica quando andava la messa solenne con i genitori tutti si voltavano a guardarla e le madri portavano a esempio alle figlie il suo contegno per circa due anni aveva lavorato come segretaria nella tipografia privasse una ditta che esisteva da tre generazioni poi d'un tratto si era diffusa la notizia che aveva trovato un posto migliore a bourge i genitori non ne parlavano erano i negozianti più scontrosi del vie marchè e parecchi clienti preferivano spingersi fino a rue de la gare per i loro acquisti la lutte e gina erano buone amiche insieme a clemence la figlia del macellaio avevano formato per lungo tempo un terzetto inseparabile da prima si era sparsa la voce che a bourge la lutte lavorava da un architetto poi da un medico scapolo col quale conviveva alcuni l'avevano incontrata laggiù e raccontavano dei suoi abiti eleganti della sua pelliccia stando agli ultimi pettegolezzi possedeva una quattro cavalli con cui una sera era stata vista arrivare a casa dei genitori la lutte non aveva passato la notte in famiglia i vicini affermavano di averli sentiti discutere in tono concitato cosa strana perché gli ariel aprivano bocca a malapena e qualcuno li aveva perfino soprannominati i due pesci di ritorno da una delle sue visite a bourge gina si era limitata a dire a jonas si arrangia come può il che non è facile per nessuno e dopo un attimo di riflessione aveva aggiunto è una povera ragazza troppo buona perché troppo buona jonas non gliel'aveva chiesto si rendeva conto che non erano affari suoi che erano storie di donne anzi di ragazze e che quando delle amiche d'infanzia come lo erano clemence la lutte e gina si ritrovano tra loro tornano bambine e hanno diritto ai loro segreti un'altra volta gina aveva detto per certa gente tutto è semplice alludeva forse a clemence che si era trovato un marito giovane un bel ragazzo e che aveva avuto la festa di nozze più bella del vie marchè jonas non era né giovane né bello e tutto quel che aveva potuto offrire a gina era la sicurezza ma lei aveva davvero voglia di sicurezza di tranquillità come lui le aveva detto il primo giorno dove era adesso con i francobolli che immaginava di poter vendere senza problemi non doveva avere molto denaro con sé anche se all'insaputa di jonas aveva messo qualcosa da parte per l'occasione nemmeno il fratello aveva potuto dargliene perché era lei ad allungargli qualche banconota di tanto in tanto avendo visto i prezzi sul catalogo doveva aver pensato che le sarebbe bastato presentarsi a un qualunque commerciante di francobolli a parigi o altrove per venderli questo era vero per qualche pezzo non troppo raro ma le cose stavano diversamente per gli esemplari di valore come il cerere 1849 i commercianti di francobolli come i commercianti di diamanti formano da un capo all'altro del mondo una sorta di confraternita essi conoscono più o meno tutti tra loro sanno quasi sempre in che mani si trova questo o quel francobollo prezioso e aspettano l'occasione di acquistarlo per i loro clienti almeno cinque francobolli del lotto portato via da gina erano noti nel giro qualsiasi commerciante serio vedendosi di proporre avrebbe trattenuto la donna con un pretesto per poi telefonare alla polizia non rischiava la prigione perché la sua moglie il furto tra coniugi non è un reato non avrebbero neanche aperto un'indagine essi sarebbero limitati a mettersi in contatto con lui si sarebbe conclusa così per ignoranza la fuga di gina non era sicuro di augurarselo anzi non se lo augurava affatto lo addolorava pensare alla vergogna di gina al suo sgomento alla sua rabbia e non sarebbe stato ancora più grave se gina avesse incaricato della vendita qualcun altro in quel momento era di certo insieme a un uomo jonass non si faceva illusioni e stavolta non si trattava di qualche aitante giovanotto del luogo che aveva seguito d'impulso per una notte o due se n'era andata con convinzione e la partenza era stata premeditata organizzata almeno 24 ore prima in altri termini per 24 ore jonass aveva vissuto con la moglie senza rendersi conto che probabilmente era l'ultimo giorno che passava al suo fianco ora camminava per la strada a passi lenti e lo spazio vuoto sotto la tettoia d'ardesia pareva immenso popolato solo dagli addetti alle pulizie che bagnavano il suolo con getti d'acqua e sfregavano il cemento con le ramazze la maggior parte dei negozi era chiusa fino alle due rinviava il momento di andare dalle bucche a prendere il solito caffè perché non aveva voglia di parlare con nessuno e meno che mai di rispondere ad altre domande non provava odio né rancore aveva il cuore colmo di una tenerezza triste inquieta e tuttavia quasi serena si fermò per un paio di minuti a guardare due cuccioli di cane uno dei quali era steso sul dorso con le zampe in aria giocavano a mordicchiarsi in pieno sole si ricordò dell'odore da ringa in cucina della padella che nella fretta gina non aveva lavato e alla quale erano rimasti attaccati dei pezzetti di pesce cercò di ricostruire che cosa si erano detti durante quell'ultimo pasto ma non vi riuscì si sforzò allora di evocare nei minimi dettagli la giornata precedente che lui aveva vissuto come un giorno qualsiasi senza sospettare che sarebbe stato il più importante della sua vita gli tornò in mente una scena lui era dietro al bancone a servire un anziano signore che non sapeva di preciso cosa comprare quando gina salita poco prima a cambiarsi era scesa con un vestito rosso era un abito dell'anno passato che jonas le vedeva indosso per la prima volta nella stagione e che essendo gina ingrassata era più attillato che mai lei si era diretta verso la porta stagliandosi nel rettangolo di sole e jonas aveva avuto l'impressione di non averla mai vista così bella non gliel'aveva detto perché quando le faceva un complimento lei alzava le spalle seccate e qualche volta si rabbuiava in volto un giorno aveva commentato quasi stizzita smettila diventerò vecchia fin troppo presto jonas credeva di capire ma non aveva voglia di andare più a fondo non intendeva forse dire che stava sciupando la sua giovinezza in quella vecchia casa che sapeva di carta muffita o era un modo ironico per rassicurarlo per fargli comprendere che tra non molto sarebbero stati alla pari e lui non avrebbe più avuto motivo di temere vado a trovare la mamma gli aveva annunciato di solito a quell'ora le visite al negozio della madre duravano poco perché angela le prese con i clienti non aveva tempo da perdere invece gina era stata via per circa un'ora quando era rincasata non proveniva da destra ma da sinistra cioè dalla parte opposta alla casa dei genitori e non aveva pacchetti in mano gina non riceveva mai lettere ed un tratto a jonas questo parve strano senza contare la lut aveva parecchie amiche sposate che non abitavano più in città non avrebbe dovuto arrivarle almeno una cartolina ogni tanto l'ufficio postale era in ruota cinque minuti da pepito gina aveva un fermo posta lì oppure era andata a telefonare dalla cabina in due anni di matrimonio non aveva mai accennato a marcel che era stato condannato a cinque anni di prigione le sue scappatelle erano state per forza di cose con altri perciò jonas aveva supposto che non pensasse più a lui erano almeno sei mesi che non usciva sola la sera se non per badare al bambino di clemence ed era sempre rientrata in orario d'altronde se fosse andata a letto con qualcuno se ne sarebbe accorto perché gina non era il tipo di donna sulla quale l'amore non lascia tracce conosceva la sua faccia dopo che era stata con un uomo la sua aria stanca e sorniona perfino l'odore del suo corpo non era più lo stesso la signora ariel la commerciante di granaglie in piedi dietro la porta chiusa della bottega il viso pallido incollato al vetro lo guardò misurare a grandi passi il marciapiede come chi non sa dove andare finché non si avviò verso il bar le buche era ancora a tavola con la moglie in fondo alla sala e stavano finendo un piatto di sanguinaccio con purè non si disturbi disse jonas non ho fretta a quell'ora tutto era calmo prima di pranzare fernanda aveva spazzato via la segatura sporca e le piastrelle rosse erano lucide il locale odorava di pulito ha mangiato da pepito a noi le buche aveva la faccia ussuta e portava un grembiule azzurro tranne la domenica e due tre volte al cinema jonas non l'aveva mai visto con la giacca ancora con la bocca piena si diresse verso la macchina dell'espresso dicendogli lui mi ha chiesto poco fa se avevo visto passare gina e gli ho risposto di no avevo una brutta cera è proprio una disgrazia che un bravo uomo come lui non possa fare a meno di bere aspettando il caffè jonas scartò le due zollette di zucchero che teneva in mano gli piaceva l'odore del bar di le buche anche se vi predominavano gli effluvi dell'alcol come gli piaceva l'odore dei libri vecchi che regnava a casa sua e gli piaceva pure l'odore del mercato soprattutto quando arrivava la frutta estiva tanto che a volte senza mai perdere d'occhio la libreria usciva a passeggiare fra le bancarelle per respirarlo parlando di lui le buche l'aveva definito un bravo uomo e jonas si rese conto per la prima volta che fernando usava spesso quell'espressione anche ansel era un bravo uomo e così pure ben as il poliziotto al quale ogni mattina i grossisti riempivano una cesta di cibarie che la moglie andava a ritirare verso le nove la stessa jangel nonostante il suo aspetto di virago era una brava donna tutti quelli che orbitavano intorno al mercato tranne forse gli ariel che si rinchiudevano in casa quasi a evitare chissà quale contagio si salutavano al mattino con allegra cordialità e tutti lavoravano sodo rispettando il lavoro altrui di marcelle quando era scoppiato il caso della rapina avevano detto con commiserazione strano un ragazzo così simpatico e avevano aggiunto colpa dell'indocina si ha fatto una cosa simile quello non è un posto per ragazzini né erano meno indulgenti se parlavano della lutta e della vita misteriosa che conduceva a bourges e le ragazze di oggi sono diverse da quelle di un tempo anche l'educazione è cambiata quanto a gina restava uno dei personaggi più popolari del mercato e ogni volta che passava anche giando col sorriso sulle labbra la dentatura smagliante i volti di tutti si illuminavano le sue avventure non erano un segreto per nessuno una sera quando aveva appena diciassette anni era stata vista sulle casse di un autocarro tra le braccia dell'autista salve gina le gridavano e probabilmente invidiavano quelli che avevano avuto la fortuna di andare a letto con lei molti ci avevano provato alcuni ce l'avevano fatta nessuno le rimproverava di essere com'era anzi in un certo senso le erano riconoscenti perché senza di lei il vie marce non sarebbe stato lo stesso è vero che ha preso la corriere del mattino chiese le bucari mettendosi a tavola poiché jonas non rispose interpretò il silenzio come una conferma e proseguì in tal caso avrà viaggiato con mia nipote la figlia di gaston che è andata a farsi visitare da un altro specialista jonas la conosceva era una ragazza dal viso grazioso ma anemico con una malformazione all'anca che la costringeva a camminare spingendo in avanti la parte destra del corpo aveva diciassette anni dall'età di dodici anni era in mano ai medici che l'avevano sottoposta a terapie d'ogni sorte l'avevano anche operata due o tre volte senza risultati apprezzabili e verso i quindici anni era stata ingessata per dodici mesi non di meno era di indole dolce e gaia e la madre prendeva in prestito per lei parecchi libri a settimana romanzi sentimentali che jonas sceglieva con cura evitando quelli in cui c'erano personaggi con infermità simili alla sua l'ha accompagnata la madre no è andata sola gina le avrà tenuto compagnia e ritorna stasera con una corriere delle cinque a quell'ora dunque tutti avrebbero saputo che gina non era andata a bourge che cosa avrebbe detto a lui quando sarebbe venuto a chiedergli spiegazioni perché i palestri avrebbero senz'altro chiesto spiegazioni gli avevano affidato la figlia e ormai lo consideravano responsabile nei suoi confronti incapace di controllarla temendo che da un momento all'altro scoppiasse uno scandalo angela l'aveva buttata tra le sue braccia era questo in definitiva ciò che era andata a fare quando gli aveva parlato di quel posto per la figlia presso il vice direttore della fabbrica magari era anche vero ma lei ne aveva approfittato jonas gliene era tuttora riconoscente perché la sua vita prima che vi entrasse gina non aveva alcun sapore era come se lui non avesse nemmeno vissuto gli sarebbe piaciuto sapere che cosa era successo all'epoca in casa palestri c'erano state discussioni su questo non vera dubbio e non vera dubbio neanche sull'atteggiamento di freddo che doveva avere accusato i genitori di spingere la sorella tra le braccia di un vecchio ma lui anche lui preferiva che la figlia corresse la cavallina anziché sposarsi con jonas pare che avremo un'estate calda almeno così dicono i lunari e la settimana prossima ci saranno temporali jonas si asciugò le lenti che si erano appannate per il vapore del caffè e rimase un momento come un gufo al sole sbattendo le palpebre arrossate di rado si toglieva gli occhiali in pubblico non sapeva bene perché dato che lui stesso non si era mai visto così gli procurava un senso di inferiorità come quando si sogna di essere nudi o in pigiama in mezzo alla folla gina invece lo vedeva senza occhiali ogni giorno e forse era per questo che lo trattava in modo diverso dagli altri le sue lenti spesse non cerchiate di metallo né di tartaruga avevano un doppio effetto a lui permettevano di mettere a fuoco ogni dettaglio del mondo esterno e agli altri rendevano i suoi occhi più grandi cosa che conferiva loro una fissità una durezza che in realtà non avevano una volta mentre se ne stava sulla soglia del negozio un ragazzino che passava con la madre aveva esclamato che occhi grossi a quel signore non aveva affatto gli occhi grossi erano le lenti a farli sembrare sborgenti arrivederci mormorò dopo aver contato le tante da lasciare sul bancone arrivederci e buona giornata verso le cinque le buca avrebbe chiuso il bar perché nel pomeriggio si vedevano pochi clienti se lo teneva aperto era soprattutto per comodità dei vicini la sera prima dei giorni di mercato andava a letto alle otto per essere in piedi alle tre del mattino l'indomani venerdì non c'era mercato un giorno sì e uno no quattro giorni su sette per essere precisi lo spiazzo sotto la tettoria d'ardesia restava deserto e fungeva da parcheggio per le macchine e da campo giochi per i bambini per due o tre settimane li si vedeva sfrecciare sui pattini a rotelle con un rumore che alla lunga risultava fastidioso poi quasi si fossero passati la voce cambiavano gioco e si davano alle biglie alla trottola o allo ioiò il mutamento seguiva un suo ritmo come quello delle stagioni ma più misterioso perché era impossibile indovinare da dove nasceva la decisione e ogni volta il padrone del bazar di ruote era accolto alla sprovvista mi dia un aquilone per favore ne vendeva dieci venti nell'arco di due giorni ne ordinava altri e non gliene richiedevano più neanche uno per il resto dell'anno il gesto di prendere le chiavi in tasca rammentò a jonas la cassetta di sicurezza e la partenza di gira ritrovò l'odore della casa immersa in un'atmosfera grigia ora il sole non batteva più sulla facciata spinse sul marciapiede le due casse munite di rotelle e rimase in piedi in mezzo al negozio con le mani in mano senza sapere che fare eppure aveva vissuto così per anni da solo e non ne aveva sofferto non si era nemmeno accorto che gli mancava qualcosa che cosa faceva un tempo a quell'ora gli capitava di leggere seduto dietro il bancone aveva letto molto non solo romanzi ma anche saggi su variati argomenti talvolta i più imprevedibili dall'economia politica e resoconti di scavi archeologici gli interessava tutto tirava fuori a caso un libro sulla meccanica per esempio pensando di scorrerne solo un paio di pagine e finiva con leggerlo da cima a fondo aveva divorato così dalla prima all'ultima riga la storia del consolato e dell'impero e 21 volumi incompleti della gassette tribunaux dell'ottocento che poi aveva venduto a un avvocato gli piacevano in particolare i libri di geografia quelli che descrivono una regione dalla formazione geologica allo sviluppo economico e culturale i francobolli erano come punti di riferimento i nomi di paesi sovrani e dittatori non evocavano per lui una mappa variopinta o una serie di fotografie ma una piccola immagine dentellata protetta da una busta trasparente in questo modo ancor più che attraverso la letteratura si era fatto un'idea della russia dove era nato 40 anni prima allora i suoi genitori abitavano ad arkangelsk nella parte alta della carta geografica sul mar bianco dove erano venuti al mondo prima di lui cinque sorelle e un fratello ebbene di tutta la sua famiglia jonas era l'unico a non conoscere la russia che aveva lasciato a un anno probabilmente era stato proprio questo il motivo che l'aveva spinto durante il liceo a collezionare francobolli doveva avere 13 anni quando un compagno gli aveva mostrato il suo album guarda gli aveva detto è una veduta del tuo paese si trattava se lo ricordava perfettamente tanto più che ora possedeva anche lui quel francobollo insieme a parecchi altri esemplari russi di un pezzo del 1905 azzurro e rosa raffigurante il cremlino ne ho altri sai ma ritraggono personaggi i francobolli emessi nel 1913 per il terzo centenario dei romanov rappresentavano pietro primo alessandro secondo alessio mikhailovic paolo primo in seguito jonas avrebbe messo insieme una collezione completa che comprendeva il palazzo d'inverno e la casa di legno dei boiari romanov quando lui era nato sua sorella lioscia la maggiore aveva 16 anni adesso dunque sempre che fosse ancora viva doveva averne 56 nastassia ne doveva avere 54 e daniel l'unico fratello morto in tenera età ne avrebbe avuti 50 tondi le altre tre sorelle stefania sonia e dussia dovevano avere rispettivamente 48 45 e 42 anni quella a cui pensava più spesso era dussia perché lei era solo di poco più grande di lui e anche per via del suo nome non le aveva mai viste in faccia non sapeva niente di loro se erano vive o morte se avevano aderito al partito o se erano state massacrate la partenza di jonas dalla russia era avvenuta nello stile della madre natalia lo stile degli udonov per usare l'espressione di suo padre gli udonov infatti erano sempre stati considerati tipi originali al momento della nascita di jonas nella casa di arcangelsk dove c'erano otto persone di servizio il padre un importante armatore di pescarecci era appena partito come sovrintendente dell'esercito e si trovava da qualche parte nelle retrovie per avvicinarsi al marito natalia un vero piccione viaggiatore come ripeteva il padre di jonas prese con tutta la famiglia un treno per mosca dove si stabilirono presso la zia zina il suo vero nome era zinaida udonov ma jonas l'aveva sempre sentita chiamare zia zina a detta dei suoi la zia abitava in una casa così grande che ci si smarriva nei corridoi ed era molto ricca fu lì che jonas quando aveva sei mesi si ammalò si era buscato una polmonite infettiva dalla quale stentava a rimettersi e i medici consigliarono il clima più umite del sud i milk avevano degli amici in crimea a yalta gli ishepilov e una mattina sua madre senza neppure avvertirli decise di andare da loro con jonas ti affido le bambine zina disse alla zia tornerò tra qualche settimana quanto basta per far riprendere colorito al piccino non era facile in piena guerra viaggiare attraverso la russia ma nulla era impossibile per una udonov per fortuna sua madre trovò gli ishepilov a yalta si fermò da loro più a lungo del previsto come c'era da aspettarsi da lei e la rivoluzione la sorprese laggiù del padre non si avevano più notizie le bambine erano sempre da zina a mosca e natalia avrebbe voluto lasciare il bimbo a yalta per andare a riprenderle i suoi ospiti la dissuasero shepilov era pessimista l'esodo era già cominciato li enin e troschi avevano assunto il potere si stava costituendo l'esercito di wrangel perché non fermarsi a costantinopoli il tempo necessario per far calmare le acque e ritornare dopo qualche mese così jonas e la madre partirono con gli shepilov aggiungendosi al folto gruppo di emigrati russi che stavano colonizzando gli alberghi della turchia chi provvisto di denaro chi invece alla ricerca di un modo qualsiasi per sbarcare il lunario gli shepilov erano riusciti a portarsi dietro oro e gioielli natalia aveva qualche diamante perché da costantinopoli si erano poi trasferiti a parigi e come mai da parigi erano andati a finire in una piccola città del berri non era affatto un mistero prima della guerra shepilov era solito offrire generosa ospitalità nei suoi possedimenti in ucraina e aveva accolto anche un certo numero di francesi tra cui per diverse settimane il conte di coubert che possedeva un castello e alcune fattorie a 12 chilometri da louvain si erano rincontrati dopo l'esodo che all'epoca si immaginava di breve durata e coubert aveva messo a disposizione di shepilov il suo castello natalia lo aveva seguito insieme a jonas che aveva ancora un'idea sommaria del mondo attraverso il quale veniva sballottato nel frattempo costantin milk che era stato fatto prigioniero dei tedeschi fu liberato a isla chapelle in seguito all'armistizio non gli avevano fornito viveri né danaro né mezzi di trasporto e in quelle condizioni era impensabile raggiungere la lontana russia di tappa in tappa con altre straccioni come lui milk arrivò a parigi e un giorno il conte di coubert lesse il suo nome in un elenco di prigionieri russi giunti da poco non c'erano notizie della zia zina né delle bambine che con ogni probabilità non avevano avuto il tempo di passare la frontiera costantin milk portava lenti spesse come di lì a qualche anno sarebbe toccato anche al figlio aveva le gambe corte e la corporatura di un orso siberiano si stancò presto della vita inoperosa del castello e una sera annunciò di avere acquistato grazie ai diamanti di natalia una pescheria in città forse sarà un po duro per una udonov aveva detto col suo sorriso enigmatico ma bisognerà pur abituarsi dalla porta di casa jonas poteva vedere ancora adesso la pescheria alla mare con i due banconi di marmo bianco e la grande bilancia di rame per diversi anni aveva dormito nella camera mansardata del secondo piano che adesso era della figlia degli scenù fino a quando non era andato a scuola aveva parlato quasi soltanto russo ma in seguito l'aveva pressoché dimenticato la russia era per lui un paese misterioso e cruento in cui le sue cinque sorelle compresa dussia potevano anche essere state massacrate con la zia zina come era accaduto alla famiglia imperiale suo padre alla stregua degli udonov che tanto canzonava era un uomo dalle decisioni brusche o comunque se le maturava non ne metteva al corrente nessuno nel 1930 quando jonas aveva 14 anni e frequentava il liceo cittadino costantenne milk annunciò che sarebbe partito per mosca siccome natalia insisteva finché andassero tutti insieme lui guardò il figlio e sentenziò meglio essere certi che ne resti almeno uno nessuno sapeva che cosa l'aspettava laggiù aveva promesso di mandare sue notizie in un modo o nell'altro ma dopo un anno non ne avevano ancora ricevute gli shepilov si erano stabiliti a parigi dove avevano aperto una libreria in ru jacob e natalia scrisse loro per chiedere se erano disposti a occuparsi per qualche tempo di jonas che avrebbe frequentato un liceo di parigi mentre lei tentava a sua volta di rientrare in russia fu così che jonas venne iscritto al liceo condorsè poi era scoppiata un'altra guerra a cui lui non aveva potuto partecipare per via della vista debole le popolazioni erano state di nuovo sconvolte erano ricominciati gli esodi le ondate di rifugiati jonas si era rivolto a tutte le autorità immaginabili sia russe sia francesi ma non aveva ottenuto alcuna informazione sulla sorte dei genitori poteva sperare che suo padre a 82 anni e sua madre a 76 fossero ancora vivi che ne era stato di zia zina con la sua casa in cui ci si perdeva e delle sorelle di cui non conosceva le sembianze chissà forse dussia ignorava addirittura di avere un fratello in qualche parte del mondo le pareti attorno a lui erano ricoperte di libri vecchi nel bugigattolo c'era una grande stufa che d'inverno a jonas piaceva alimentare finché non diventava incandescente e quel giorno avrebbe giurato che in cucina stagnasse ancora odore di aringhe la vasta tettoia del mercato riverberava il sole sulla vetrina e tutto intorno c'erano botteghe non più grandi della sua tranne dal lato di rude bourge dove si ergeva la chiesa di san cecile poteva dare un nome a ogni volto riconosceva ogni voce e quando si affacciava sulla soglia o quando entrava dalle buc tutti gli dicevano salve signor jonas era un mondo nel quale si era fatto una sua cuccia e in quel mondo era entrata gina ancheggiando e portandosi dietro un caldo odore di e scelle ora lei lo aveva abbandonato e lui provava un senso di vertigine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti